Che c'è? A me sei bella con la tristezza di noi che sono un attraccio gigante alle famiglie dei polizioni che sono stati colpiti e in generale alle forze delle persone che ogni giorno rischiano per noi una vita. Grazie per quello che fate continuamente non abbandonateci mai e coraggio, coraggio, coraggio. Questo è il nostro moltissimo saluto e pensiero doveroso alle tanti uomini e alle tante donne che ogni giorno rischiano una vita. Ancora non sto dire credo che però è come un sottotabile l'idea che si fa a noi per ripetere le persone per ripetere le cose per ripetere le cose e vediamo anche noi credo che questo applauso che abbiamo fatto è proprio deve essere anche un segno di forza ma per alcune le sigla le persone che abbiamo fatto non sono riusciti per le cose e quindi questo lo spettacolo è iniziale e la maggiorità per il titolo è il nostro il nostro gioco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.